Paolo, sono in attesa. Di chi? Sono in attesa di un bambino. E che c'è me, con la mamma questa. Chi è questo? Paolo, sono in attesa di un bambino tuo. E' un'incita, i piccinelli. Sono single. Paolo, sono incinta. Auguri! Augurus! E di chi? Di chi? Come di chi? Di chi? Paolo, sono in attesa di un bambino tuo. Un grandissimo successo. Innanzitutto quest'anno è stato il primo anno in cui non abbiamo avuto una mano dalla provincia di Bari perché è venuto meno il finanziamento del decentramento culturale. Quindi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto tutto da noi. Abbiamo voluto fare tutti gli spettacoli qui in piazza perché riteniamo che questo sia il salotto, come dico sempre, del nostro paese. Si sono avvicendati scuole di canto perché abbiamo delle cantanti preziose qui a Palo del Colle. Abbiamo fatto esibire le scuole di ballo, le scuole di danza. Ci sono stati spettacoli tipo Giannicola Iemma, Pignataro, artisti della nostra Puglia che sono venuti qui ad esibirsi a Palo del Colle. Abbiamo avuto le notti dello sport qui in piazza. Abbiamo fatto divertire i bambini con il villaggio delle Fiave. Insomma, c'è stato un insieme di manifestazioni con il ricordo anche di Vito Robbiari e quindi con la fondazione che ha permesso di poter ascoltare delle voci bianche. Ci possiamo ritenere soddisfatti perché la piazza è stata molto frequentata. Molta gente che quest'anno non è uscita dal territorio per le meritate ferie ha potuto vivere un'estate diversa qui nel nostro paese. E questa è la soddisfazione per quanto riguarda l'amministrazione di aver dato la possibilità ai palesi di rimanere nel proprio territorio e di vivere nel proprio territorio. Un altro fiore all'acchiello è stata la cena bianca. Ce ne sono state addirittura due in piazza che ha visto tantissima gente partecipare, vestite in bianco per poter degustare qualcosa sotto il campanile proprio per vivere insieme una serata diversa. Quindi viva Palo del Colle, viva le Summer Nights in Palo del Colle e viva i palesi. Mamma mia! Arriva oggi! 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 Ma i tei da a feo! Adio! Ma come Palo? Ciao! Grazie! Non sapevo il problema, non è vero, non è vero.